buongiorno a tutti e ben ritrovati qua solo di rossonera è giovedì 26 ottobre del 2023 buona giornata da me e da Enrico Boiani ciao Henry ciao buongiorno buongiorno a tutti Milan perde lo sappiamo già 3 a 0 a Parigi eh ancora non compromette definitivamente il il suo cammino europeo però la prestazione di ieri è veramente negativa ancora una volta al Milan non segna da 5 partite di Champions League 3 più le due precedenti eh fa fa una fatica enorme a fare eh a fare gol sia in Champions e ti dirò anche ultimamente quello in campionato eh perché non è che abbiamo fatto tutti questi gol in campionato nell'ultimo periodo eh Henry ti lascio ti lascio aprire poi come al solito qua il mattino Milano del giorno dopo analizziamo un po' quello che è stata la partita e facciamo le pagelle quindi tra poco partiranno anche le pagelle ma innanzitutto parto dicendo e chiedendo ai nostri ascoltatori a chi ci ascolta e chi ci seguo di mettere like eh lo faccio rapidissimamente oggi perché ci sta eh l'arrabbiatura quindi non non vado con giochini di parole mettete like ragazzi semplicemente se volete supportarci se volete seguirci eh se volete aiutarci perché di fatto il like per noi è un aiuto poi se non vi va se non volete metterlo siete liberissimi di farlo ma mettetelo mettetelo e fateci questo favore è difficile anche con una notte sopra anche insomma il giorno dopo è difficile star qui a commentare star qui a parlare io io ripeto e sottoscrivo a mente un po' più fredda quello che ho detto ieri cioè è vero che ci sono stati errori singoli tecnici tanti è vero che però ci sono in tutte le partite a turno di dei nostri giocatori e se è così forse significa che c'è qualcosa in più c'è qualcosa sotto che bisogna scavare un pochino di più e perché altrimenti avremmo una squadra scarsa semplicemente e una squadra scarsa non ce l'abbiamo e lo abbiamo dimostrato negli ultimi due tre anni in certe situazioni quindi io credo che si debba andare un po' oltre andare un po' più a fondo rispetto all'errore singolo l'errore tecnico che c'è che va risolto che esiste e non va nascosto e ci mancherebbe altro però iniziano a essere troppi indizi che portano una prova cioè che questa squadra ha un canovaccio è un canovaccio trito e è un canovaccio ormai povero non ha nuovi copioni non ha copioni alternativi ne ha uno consumato che ogni tanto ancora funziona però ogni tanto anzi ultimamente spesso non va soprattutto in situazioni e contesti importanti velocemente la gazzetta dello sport giusto per dire che Parigi è un incubo l'abbiamo visto Mbappé supera il Pari travolge Rossoneri ora si fa dura apre Chile un po' con l'umania eccetera eccetera vabbè la Naga antivia veloci perché in tutto questo ieri non ci siamo nemmeno fatti mancare un po' di alta tensione interna Pioli Calabria dobbiamo alzare il livello e Davide per me ha sbagliato il capitano dice troppo sbilanciati chi non ci vede più stia a casa la replica del tecnico dopo le partite si perde in lucidità le ha in Europa tacco flop tre partite zero gol Rafa non fa mai male come non fa mai male neanche Olivier Giroud come non fa mai male nemmeno Christian Pulisic come non fanno male i giocatori offensivi di questo Milan non voglio salvare nessuno le colpe sono di tutti cari miei ripartirei con le pagelle Henry vai 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 le faccio al contrario perché voglio fare un discorso diverso aspetta che ti rimetto ma guarda se volevi anche tenermi nascosto non era poi così ma no 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 è giusto è giusto metterci la faccia guarda Henry faccio un discorso molto veloce su questo il voto di oggi è sì per il mister ma per un errore che è stato fatto a monte di questa stagione faccio un discorso di 30 secondi è proprio il 3 il problema cioè l'anno scorso le componenti del Milan come sempre in realtà sono erano anzi tre la dirigenza sportiva i giocatori lo staff e quindi l'allenatore la parte tecnica l'anno scorso hai deciso che due di queste componenti dovessero pagare d'azzo alla fine della stagione i dirigenti sportivi sono saltati come tappi di champagne alcuni dei giocatori della rosa pure parte del mercato idem e sono andati via l'unico che non è stato toccato da questa rivoluzione è stato il tecnico e il suo staff che anzi addirittura a marzo aprile era confermato dalla proprietà a monte anche della qualificazione champions league perché era così e me lo ricordo andatevelo a vedere nel caso potete fare una veloce ricerca su google se volete se non ci credete l'allenatore che è stato preso quindi è salvato e ha aveva le colpe come gli altri 33 33 33 e non voglio dare nessuna colpa in più né uno né l'altro pare merito 33 per cento invece è stato salvato a priori errore numero due è stato confermato al di là dei propri meriti perché io penso che l'anno scorso il mister avesse denunciato palesi limiti di fine ciclo ci i giocatori avessero denunciato questo rischio l'anno scorso quando sono andati due volte in ritiro punitivo e a gennaio si erano fermati e ci anzi o di forse sono arrivato di lì è stata lì è stato tolto anche chi aveva questa figura di controllo del lavoro di mister stefano pioli che invece di essere tenuta al pari livello dell'anno scorso è stato aumentato di poteri e questi poteri non potevano nemmeno essere contestati da una persona che mastica calcio non voglio fare nome e cognomi a me non interessa dire era giusto tenere maldini non è questo il discorso il mio discorso è diverso andava tenuto una persona sopra mister stefano pioli che capisca di calcio si confronti con lui probabilmente moncada si capisce di calcio un ottimo conoscitore di calcio ma non è questo il suo mestiere e l'ho anche abbastanza denunciato questo non vuol fare questo di lavoro non vuol fare direttore sportivo non è quella persona che anche caratterialmente va dal mister a dialogare con lui non lo è nemmeno giorgio furlani che un ottimo dirigente d'azienda ma non dirigente d'azienda punto qui finisce la sua competenza sul mondo di campo calcio finisce qui non c'è nessuno in milan che possa parlare di calcio e questa cosa purtroppo la stiamo pagando e la paga l'allenatore che invece di probabilmente fare un passo indietro ne ha fatti due in avanti ed è andato sopra ritmo e quindi le sue convinzioni sono ancora più esaltate al ribasso sono ancora più tirate all'eccesso idee nuove sono finite non so ragazzi probabilmente l'errore è stato fatto a monte di questa stagione sì non aggiungo non aggiungo altro se non che anche quella cosa che apprezzavamo di pioli nei primi anni perlomeno parlo per me quella cosa che di pioli apprezzavamo nei primi anni soprattutto ti direi più nell'anno prima dello scudetto che nell'anno dello scudetto cioè l'umiltà certi certi modi certe certe anche risposte che dava anche quella cosa lì è andata completamente a farsi benedire come si suol dire perché stiamo vedendo quasi un'altra persona ultimamente le conferenze stampa per modi per risposte per per presunzione perché per quanto mi riguarda è presunzione e non apparteneva a lui inizialmente non è mai appartenuta al Milan questa cosa quindi anche questa cosa qui mi dispiace per il resto sottoscrivo tutto quello che hai detto tu andiamo ai singoli Mike Mignan Mike che dire fa l'unica cosa buona della partita del lino 5 merito suo punto e stop eh sì grandissima parata che manda la palla sul palo su sul giro di Mignan di Mbappé sui gol non può far niente andiamo avanti Pierre Calulu ho lasciato Milan Juve in tutto ciò vabbè non è Milan Juve ragazzi è Paris Saint Germain Milan tanto la partita come approccio come tipologia non è troppo di merito la partita praticamente è stata molto simile a quella che che era Paris Saint Germain un leggerissimo problema di connessione eh Pier Calulu vai gli abbiamo dato sei comunque dalla sua parte grandi errori non ce ne sono stati anche contro Mbappé ma andati in mezzo neppure alla fine il gol di Mbappé arriva quando lui non c'è cioè quando lui è alto a fare a fare altro ma sì ci può stare ci può stare Pier ripeto quello che ho detto la volta scorsa Pier dobbiamo metterlo un po' il ritmo perché serve e si è comportato abbastanza bene dai aveva alla fine speravamo ci fosse lui contro Mbappé ti dirò meno male perché poi abbiamo visto con Calabria cosa è accaduto cioè che tre volte su tre Mbappé ha preso e ha calciato in porta ecco quindi bene che ci sia stato lui anche se non è stata la mossa vincente ecco ma non ce ne era non ce ne erano ieri Malik ciao gioca 45 minuti di cui 42 con un giallo sulla testa prende un giallo al terzo minuto per solito suo errore che non deve intervenire troppo sì ma è intervenuto ancora una volta sulla linea di metà campo a campo aperto vabbè andiamo avanti avanti Teo Hernandez prende 5 anche lui sospeso nel vuoto Teo in tutti i tempi Teo è un oggetto del mistero da inizio stagione era un oggetto del mistero a gennaio era fermo a gennaio è praticamente fermo da inizio stagione io due domande me le farei carissimi sì direi direi che questo riassume abbastanza Teo credo che sia in questo momento quello più anche staccato mentalmente dalla stagione poi speriamo di riattaccarlo è comunque tra virgolette da accettare come cose perché sono professionisti sono pagati e chiunque ci sia in panchina chi non c'è in panchina chiunque ci sia in dirigenza chi non c'è in dirigenza tu devi fare il tuo andare in campo e giocare però sappiamo bene che quando i giocatori alcuni giocatori o alcuni singoli staccano con l'allenatore con la guida con certe scelte della dirigenza non lo so poi staccano Teo Hernandez aveva staccato a gennaio e Berardi che gli parte 20 metri dietro e arriva davanti correndo a Teo Hernandez ne era un chiaro segno Teo Hernandez che è un oggetto del mistero un fantasma da inizio stagione è un altro segno è lo stesso che ieri si è fatto mangiare da Kangin Lee in un po' di occasioni è vero hai ragione non deve fare così non dovrebbero nemmeno fare così chi gestisce la cosa e capire che non si stanno parlando di omini del subutio ma di persone Junus Musa io gli ho dato 6 semplicemente perché non ha fuga e ha fatto delle buone cose niente di eccezionale però almeno non è però si è visto era nella partita niente di stratosferico io gli avrei dato un 5 e mezzo per me ieri non c'è nessuno da 6 a parte Magnana nessuno sì ci può stare però dai Krunic prende un'altra 5 Krunic mi dispiace perché questo voto che per me è anche più basso è da dividere tra lui e chi lo ha messo in campo onestamente perché non è nemmeno colpa troppo è esporre le persone a brutte figure mi dispiace ieri proprio dopo la Juve non ti incontro un'altra brutta figura perché non ne ha già non è Iniesta, Xavi e compagnia è un buon giocatore che deve essere supportato da una buona condizione atletica se gli manca la condizione atletica non è neppure un buon giocatore Tijani Renders prende 5 Ale in allegria pure lui è diventato è diventato un giocatore normale è diventato un giocatore normale che in aggiunta commette anche degli errori perché nel primo gol per me è vero che sei scopertissimo perché Calulu sta salendo però vedi che ti riparte in faccia Zaire Emery con con Bappé che sta andando con Calulu che è alto lì se hai la possibilità di fare un fallo fai il fallo se non fai il fallo perché non vuoi prendere il terzo giallo in 10 minuti o 15 minuti adesso non mi ricordo e prendi gol con Bappé prendi gol quindi anche Tijani che era partito con facendo zero errori praticamente e con personalità si sta un pochino affievolendo la personalità e sta anche commettendo qualche errore di troppo oltre che avere degli occhiaie che non aveva quando arrivati sì non so cosa gli stia accadendo fisicamente al buon Tijani che non è ancora papà quindi non so le occhiaie dove le sta accumulando poi un giorno lo smetteremo anche di usarlo in fase offensiva come esca per non causare il raddoppio sulle ao perché da ammissione dell'allenatore con la Juve devono essere più alti per non far sì che le aovesse il raddoppio quindi usare una mezzala come se fosse l'esca e il difensore andiamo avanti Christian Pulisic prende 5 e mezzo per ha fatto per me tecnicamente qualcosa di un pochino migliore rispetto agli altri ma veramente poco sul gol il grida vendetta per me prende lo stesso voto degli altri perché fa qualcosa in più cioè sbaglia meno ok mette un po' più di pulizia se vogliamo anche rispetto a le ao e rispetto a Giroud ma anche rispetto a tutti i nostri giocatori ci mette un po' più di pulizia in attacco però quel gol pesa troppo cioè pesa veramente troppo quella scelta e quell'errore lì quindi per me 5 e 5 e mezzo se vuoi premiare il fatto che sia stato un po' più pulito idem per Giroud ne ho apprezzato lo spirito quello che lo fa tornare per tutta la santa gara ad aiutare e anche al novantatreesimo a sbrogliare una situazione che poteva costare il 4 a 0 per il resto Olivier Giroud va a monovelocità da due mesi anche perché gioca da due mesi l'altro si è fatto male direttamente prima Rafa prende 5 anche lui è andato incontro a una partita confusione doveva essere un grande appuntamento è stata l'ennesima partita dove si alza un pochino il livello in cui Rafa un pochino non sparisce perché vedi che ci prova sempre ma ha bisogno di un po' di aiuto in queste gare qua le ao non è il Verona che prende parte va e la vince quando si alza un po' il livello anche lui ha bisogno di una mano dal punto di vista sia dei compagni che del gioco che di tante cose deve un pochino anche lui rimboccarsi le maniche in questi appuntamenti qua non so quanto deve crescere in queste cose e onestamente vi ricordo che lui in Italia ha avuto due allenatori Gianpaolo e Pioli vado agli subentrati a Davide Calabria ho dato 6 ma ve lo spiego velocemente a parte che non è crollato quindi è già una buona cosa ma numero 2 per la prima volta gli ho visto fare qualcosa per cui quella fascia merita di essere portata ma non vuol dire perché è andato ad attaccare a destra e sinistra davanti alla telecamera no però si è preso la responsabilità di metterci la faccia anche a parole cosa che due anni fa avevano fatto Simon Kier cosa che l'anno scorso aveva fatto Sandro Tonali cosa che ha fatto lui quest'anno speriamo è un'epipania no la cosa divertente stiamo ragazzi anche un po' sdramatizzando è che chi si esponeva magari un po' di più in questo senso veniva o è stato un po' messo all'angolo Kier dal punto di vista della titolarità Tonali è stato proprio venduto vedremo non lo so vabbè non so che dirti ci sta non è neanche entrato malissimo velocemente gli ultimi due e Sinadli ha mischiato qualche buona giocata tecnica quando aveva la palla e qualche disastro quando non ce l'aveva compreso uno dei gol e un paio di situazioni pericolose davanti alla nostra area di rigore poteva far meglio di Krunic in generale? Per me si ma semplicemente perché era un atleta al 70-80% della propria condizione non al 30-40% come Krunic esattamente chiudiamo con Tommy che non lo so non lo so che non l'ho visto anche lui ieri nulla ma ci sta è Paris Saint Germain al Milan io voglio un bene dell'anima sto ragazzo che è super milanista del settore giovanile ma può anche giocare le certe partite non prende la sufficienza soprattutto se già il Milan va incontro a una partita difficile cioè scompare scompare il livello è un altro cioè è come se a me mi mettessero adesso dal nulla pronti via che ne so alla BBC cioè il livello è un altro lo riconosco per quanto mi impegni per quanto sia appassionato e tutto il livello è un altro ok va bene lui c'era anche perché gli altri sono tutti sfasciati lui doveva rimettere però il livello è un altro Harry noi siamo arrivati in chiusura ci ritroiamo tra poco sì tra poco siamo a Milan delle 11 poi c'è lunch talk e in serata filo rosso nero grazie a tutti per essere stati qui con noi buona mattinata e a presto ciao